Questa coroncina in onore del preziosissimo sangue di Gesù è stata scritta da Monsignor Francesco Albertini. La breve storia verrà narrata al termine della coroncina stessa. Iniziamo la preghiera in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amen. Nel primo mistero contempliamo Gesù che versa sangue nella circoncisione. Il primo sangue che sparse il nostro amabilissimo Redentore fu nell'ottavo giorno dopo la sua nascita quando per adempire la legge mosaica venne circonciso. Riflettendo che ciò fece Gesù per soddisfare alla divina giustizia per le tue dissolutezze è citati fortemente a dolore delle medesime promettendo al Signore con la sua potente grazia di essere in avvenire veramente casto di corpo e di spirito. O Gesù bambino col primo sangue versato per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con fede e coraggio nella luce del tuo nome e nella gioia della grazia. Così sia. Sì. 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 vita. Così sia. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti con il Tuo sangue prezioso. Terzo mistero. Gesù versa sangue nella flagellazione. Sparse sangue il Signore nella sua crudele flagellazione, quando, rotta la pelle e lacerate le carni, uscì per ogni parte e rivi quel prezioso sangue, che Egli andava offrendo all'Eterno Padre in nisconto delle Tue impazienze e delicatezze. E perché, dunque, non raffreni l'ira e l'amor proprio? Procura in avvenire di essere più sofferente nelle tribolazioni, disprezzatore di Te stesso, e ricevere in pace le ingiurie che Ti vengono fatte. O Maestro Divino, il sangue della flagellazione ci sproni ad amare la purezza per vivere nell'intimità della Tua amicizia e contemplare con occhi limpidi le meraviglie del Creato. Così sia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in secula Seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in secula Seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in secula Seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in secula Seculorum. Amen. Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli che hai redenti con il Tuo sangue prezioso. Quarto mistero Gesù versa sangue nella coronazione di spine Usci sangue dal sacratissimo capo di Gesù quando fu coronato di spine in pena della Tua superbia e dei Tuoi malvagi pensieri E tu seguiterai ancora a pascerti d'alterigia e a fomentare immagini nella Tua mente Tieni sempre presente in avvenire il Tuo vero nulla La Tua miseria, la Tua fragilità E fortemente resisti a tutte le inique suggestioni del demonio O Re dell'universo, il sangue della coronazione di spine distrugga il nostro egoismo e il nostro orgoglio Perché possiamo servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere nel Tuo amore Così sia Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli Che hai redenti con il Tuo sangue prezioso Quinto mistero Gesù versa sangue nel viaggio al Calvario Quanto sangue versò dalle vene il nostro amabile Gesù nel dolorosissimo viaggio verso il Calvario Carico del pesante legno della croce Di questo prezioso sangue rimasero bagnate le strade di Gerusalemme E quei luoghi per i quali egli passò Ciò fu insoddisfazione degli scandali e dei cattivi esempi Con cui avrebbero le sue creature trascinati altri nella via della perdizione Chissà che tu non appartenga al numero di questi infelici Chissà quanti dal tuo cattivo esempio saranno stati sospinti all'inferno E tu ancora non vi porgi rimedio? Procura in avvenire di contribuire alla salvezza delle anime Con l'ammonirle, con l'edificarle e col farti loro modello di buone e sante opere O Salvatore del mondo Il sangue versato sulla via del Calvario Illumini il nostro cammino E ci aiuti a portare la croce con te Per completare in noi la tua passione Così sia Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum Amen Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i tuoi figli Che hai redenti con il tuo sangue prezioso Sesto mistero Gesù versa sangue nella crocifissione Sparse il Redentore maggiormente il sangue della sua Barbara crocifissione Quando, strappate le vene e rotte le arterie, scaturì dal suo corpo Come un torrente, quel balsamo salutare di vita eterna Per pagare le scelleratezze ed iniquità dell'universo E si troverà ancora chi voglia continuare nel peccato E rinnovare in tal modo la crudele passione del figliuolo di Dio Piangi amaramente le mancanze connesse Detestate ai piedi del Sacro Ministro Riforma la tua condotta Intraprendi una vita cristiana Considerando quanto sangue è costata a Gesù la tua salvezza O Agnello di Dio Immolato per noi Insegnaci il perdono delle offese E l'amore ai nemici E tu, Madre del Signore e nostra Rivelaci la potenza e le ricchezze del sangue prezioso Così sia Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula, seculorum, Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula, seculorum, Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula, seculorum, Amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula, seculorum, Amen Ti supplichiamo, oh Signore, di soccorrere i tuoi figli Che hai redenti con il tuo sangue prezioso Settimo giorno Gesù versa sangue nella lanciata al cuore Finalmente Gesù versò sangue dopo la sua morte Quando con la lancia gli fu aperto il costato E ferito il suo amabilissimo cuore Anzi, insieme col sangue Uscì allora anche l'acqua Per dimostrarci che il sangue Era stato già sparso fino all'ultima stilla Per la nostra liberazione Oh bontà infinita del mio Redentore E chi non vi amerà Chi non si strugggerà di affetto per voi Che tanto avete operato per il nostro riscatto Ma poiché mancano a me le espressioni Invito tutte le creature della terra Invito tutti gli angeli e i santi del cielo Invito la mia cara madre Maria A benedire, lodare ed encomiare il vostro preziosissimo sangue Sì, viva il sangue di Gesù Viva il sangue di Gesù E adesso e sempre e per tutti i secoli dei secoli Amen O cuore adorabile, trafitto per noi Accogli le nostre preghiere Le attese dei poveri Le lacrime dei sofferenti Le speranze dei popoli Perché tutta l'umanità Si riunisca nel tuo regno d'amore Di giustizia e di pace Così sia Gloria Padri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula secularum Amen Gloria Padri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in secula secularum Amen Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i tuoi figli Che hai redenti con il tuo sangue prezioso In onore dell'addolorata Madre nostra Salve o Regina, Madre di misericordia Vita, dolcezza, speranza nostra, salve A te ricorriamo noi esuli figli di Eva A te sospiriamo, gementi e piangenti In questa valle di lacrime Orsù dunque, Avvocata nostra Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi E mostraci, dopo questo esilio, Gesù Il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, o dolce e vergine Maria Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Come promesso, ora vi racconto brevemente La storia di questa coroncina Il fatto è stato narrato e raccomandato Nel libretto dedicato al preziosissimo sangue Di Padre Giuseppe Tomaselli Il servo di Dio, Monsignor Francesco Albertini Per meglio promuovere la devozione Al prezzo della nostra redenzione Fondò la confraternita del preziosissimo sangue Mentre ne scriveva gli statuti Nel convento delle Paolotte in Roma Si udirono urla e strepiti in tutto il monastero Alle consorelle spaventate Suor Maria Agnese del Verbo Incarnato disse Non temete, è il demonio che si arrabbia Perché il nostro confessore sta facendo cosa Che gli dispiace assai L'uomo di Dio stava scrivendo infatti La coroncina del preziosissimo sangue Che abbiamo appena pregato Il maligno suscitò in lui tanti scrupoli Che stava per distruggerla Quando la stessa suora santa Ispirata da Dio E vedendolo esclamò Oh che bel regalo ci portate padre Quale, disse meravigliato l'Albertini Che a nessuno aveva confidato Di aver scritto quelle preghiere La coroncina del preziosissimo sangue Rispose la suora Non la distruggete Perché sarà diffusa in tutto il mondo E farà molto bene alle anime E fu così Così anche i più ostinati peccatori Non resistevano Quando durante le sante missioni Si svolgeva la commoventissima funzione Delle sette effusioni L'Albertini fu eletto vescovo di Terracina Dove morì santamente Chiediamo al Signore la grazia Che il preziosissimo sangue di Gesù Non manchi mai nelle nostre mense Grazie alle mani santissime dei sacerdoti E alla loro preghiera Io vi saluto Vi abbraccio La vostra piccola matita del cuore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti